Musica Esperimenti da Dispo Laboratorio, Rocco? Ciao Dispo God, oggi sto sperimentando i superpoteri della linea monouso Perfecto Dental. Per farla come si deve, manca ancora una cosa fondamentale, però. Eccomi! Ora mi sento un supereroe perfetto! Come ti sei gonciato, Rocco! Ma soprattutto, non c'era una maglietta più grande? Sono un Perfecto Dental Dispo God e sto testando la nostra linea pensata per i dentisti. Comprende tutto quello di cui un dentista può avere bisogno. Perfecto Ice, Perfecto Napkins, Perfecto Surgical Gown, Perfecto Sleeve. Praticamente una linea eccellente! Bravo Rocco! Saranno felici tutti i dentisti del mondo! Senti, visto che sei un supereroe, hai anche il potere di scomparire? Certamente Dispo God! Guarda! E uno, e due, e tre! Tutti i poteri di Perfetto Dental a me! Ma cosa è successo Rocco? Non mi ricordo. Forse questo potere era per la trasformazione, non per la sparizione. E ora come faccio? Dispo God, d'aiuto! Grazie! 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 Grazie!